Musica Abbiamo avuto noi piacere, adesso io sono anche un po' emozionato perché per me non è stato un allenatore ma è tuttora un amico, abbiamo fatto un'esperienza incredibile, abbiamo avuto una promozione con lui dalla Serie B alla 2, poi abbiamo fatto 4 anni alla 2 stupendi. Poi lui è andato avanti con la sua carriera, la cosa che a me ha fatto piacere è che nasce questo incontro perché anche il suo presidente Tajana avevamo piacere di vederlo e per far capire la qualità e la passione che ha Mattia per questo mestiere, per questo hobby che poi era diventato ovviamente mestiere. Quando io l'ho chiamato per farlo venire a Legnano a trovarci, a me, a Presidente, a Silvio Saini la prima cosa che mi ha detto è che a me farebbe piacere fare un incontro con i vostri ragazzi per far capire che ha approfittato di questo incontro con noi per dare tutto il suo modo di allenare, il suo sapere a voi. Quindi io direi di fargli veramente un grandissimo applauso e lo ringrazio pubblicamente, è un grande piacere e qua apro una piccola parentesi, poi generalmente questi corsi nelle aziende, perché noi siamo un'azienda, la gente paga. Io personalmente ho tentato di chiamare, forse anche te Bruno, Samuel e un po' tutte le società vicine a noi mi sarei aspettato una presenza più ampia, magari domani ci sarà qualche persona in più però vedrete che andrete a casa tutti che avete imparato qualcosa in più. State attenti perché sicuramente Mattia vi dirà delle cose interessanti. Grazie. Grazie. Allora, l'idea di questo incontro, come sempre quando uno dice vieni, fai una lezione, parla agli allenatori io credo che venire qua e raccontarvi come costruisco una cosa piuttosto che un'altra innanzitutto secondo me è desueto per un fatto, non alleni mai lo stesso tipo di squadra non alleni mai lo stesso tipo di giocatore, tu puoi avere un'idea funzionale in testa ma l'idea non è funzionale finché non fitta col personale che hai perciò l'idea deve essere cambiabile e soprattutto adesso è facilissimo cioè basta andare su YouTube e trovate cliniche ed esercizi di allenatori molto più bravi e importanti di me è facilissimo, cioè accedere a un database di esercizi per il tiro, per il passaggio sviluppo del contropiede, della difesa, di una cosa in un'altra è la cosa più facile in questo momento. La cosa che però io vedo in tutti i posti dove alleno, io sono abbastanza curioso perciò guardo sempre quello che mi posto, io vado a allenare come fanno attività giovanile come chi sono gli allenatori, come sono i gruppi, i ragazzi mi piace sempre, fino a due anni fa sono tornato anche ad allenare un gruppo giovanile seppur grande mentre allenavo la prima squadra è perché, per come un allenatore fa una cosa piuttosto che un'altra con quale atteggiamento si pone verso le cose che fa e qual è l'atteggiamento corporeo, il modo in cui si prepara in palestra il modo in cui si pone in palestra, le correzioni, le cose passo indietro sapere è un obbligo se voi non smettete di informarvi e di porvi domande e di voler progredire perché il nostro è un gioco completamente in evoluzione vi fermate e questo è un errore perciò sapere è un obbligo solo quando sapete decidete cosa scartare perché se no non sapere pone che lo scarto che fate in realtà è ignoranza cioè voi scartate perché non sapete non perché decidete e questa è una cosa di cui bisogna tenere conto ma il punto vero è perché decido di fare una cosa piuttosto che un'altra dentro l'allenamento e come io costruisco l'allenamento e come lo pongo alle persone che alleno se vi manca, a mio parere, questo passaggio vi manca il primo punto di ciò che è la professionalità di un allenatore questo è un punto importante a mio avviso un allenatore che si presenta in palestra senza un piano di allenamento scritto che condivide con l'assistente il preparatore, tutte le persone adesso io sono fortunato perché negli ultimi anni ho sempre avuto ormai da quasi vent'anni staff corposi però voglio dire si può avere anche un solo assistente si può avere ogni tanto il preparatore ma se non si condivide e tutto quello che avete lo avete solo in testa ed è una cosa vostra prima di tutto le persone che sono intorno a voi non servono a niente a niente secondo c'è il dubbio che se non avete deciso prima secondo una logica le cose che volete allenare succede che vi fate prendere da questa cosa la stiamo facendo bene o male e si rischia che i tempi di allenamento diventano un esercizio non viene lo porto avanti per 20 minuti un esercizio viene e mi piace sono talmente è che lo fermo a un certo punto basta perché questa cosa l'abbia fatta e andiamo avanti in realtà questa è una roba assolutamente emotiva ed è lo stesso motivo che poi porta gli allenatori secondo me in molte partite che io vedo a livello giovanile non so ok partiamo vogliamo pressare vogliamo anticipare vogliamo essere aggressivi tutto il campo poi ci incazziamo perché prendiamo i terzi tempi vogliamo passarci la palla muovi la passa e ci arrabbiamo se io sono in palla in punta vogliamo che i giocatori giochino senza palla lui fa un bigdor facciamo una palla persa perché non abbiamo pro e contro di quello che stiamo facendo non sappiamo quali sono i limiti della cosa e allora il fine ultimo è un risultato cioè è come se io ho un giocatore che tira così da metà campo e fa un canestro e lo applaudo facciamo il miglior azione del mondo e uno sbaglia da sotto da un centimetro e lo mandiamo a quel paese cioè qual è la verità noi a che punto vogliamo arrivare poi è logico che c'è l'emotività c'è il voler perdere sapete quanti giocatori ho mandato a fanculo io che non l'avrebbero meritato però è vero che bisogna avere dentro la testa una chiarezza e una linearità di ciò che faccio come lo faccio quali sono i pro e i contro quali sono i punti di criticità quali sono i passi che posso fare indietro rispetto a questa cosa per arrivare dove per fare questo è impossibile farlo per me se voi non scrivete e non vi mettete a partire da punti grandi da smembrare in punti piccoli da riutilizzare per quanto vi servono rispetto al carico del lavoro se questa cosa non viene fatta sarete sempre spannometrici ed essere spannometrico non porta assolutamente a essere qualitativi vi faccio un esempio per quello che faccio io con le prime squadre poi parliamo di settore giovanile durante la stagione io riguardo sempre la partita che ho giocato molte volte la notte stessa dopo che l'ho giocata se poi torno in pullman o proprio anche nel gran tempo e mi prendo proprio appunti fatti in questo modo divido attacco difesa e inizio a segnare palle perse contropiede difesa no lato debole attacco pick and roll no sponde difesa taglia fuori non lo facciamo bene attacco il gioco testa primo blocco non portato e va davanti così boom 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 poi il giorno di riposo che è lunedì chiedo al mio assistente quante partite devo guardare degli avversari non mi faccio dire niente da lui di solito ne guardo un paio e faccio la stessa cosa non mi segno i giochi che non mi interessano mi segno le cose che mi sembra loro facciano bene e che gli aiutino a vincere le partite o magari le cose che ripongo dentro un gioco in una situazione siano ripetitive su cui mettere attenzione attenzione ai blocchi ciechi è una squadra che corre quello è il giocatore chiave pick and roll centrale fanno gli short roll contro i cambi che cosa fanno in difesa tutte queste cose e me le segno pam 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 poi questa cosa logicamente presa live va riordinata e perciò diventano argomenti di difesa con la palla difesa sulla palla difesa sul giocatore senza palla difesa sui blocchi blocchi sulla palla blocchi lontano dalla palla scusate attacco difesa uguale boom 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 e lo mettiamo a posto e me lo divido per grandi argomenti gli avversari uguale cosa fanno con la palla cosa fanno senza palla quali sono i giocatori chiave quali sono i movimenti chiave cosa fanno in difesa perché vincono le partite e me le segno poi divido la mia settimana e dico martedì mercoledì lavoro solo sulle cose mie non mi interessa quello che fanno gli avversari però cerco di vedere se in questi punti che io ho toccato ci sono delle cose che possono andare a richiamare qualcosa che fanno loro perciò posso iniziare senza dirlo alla squadra preparare la partita mettendoci attenzione e li linko cioè se ho una cattiva transizione difensiva e gioco contro il prossimo partito contro una squadra che corre vuol dire che tutta la settimana non tutti gli allenamenti ma almeno un allenamento sì un allenamento no devo mettere grande attenzione sulla transizione magari a inizio settimana senza dire loro che gli avversari corrono molto ma ponendo il punto di dire noi abbiamo sbagliato in difesa dopodiché dopodiché andando dentro la settimana e iniziando a parlare con loro fate conto che la settimana che io faccio divisa a livello video è che il primo giorno della settimana se ritengo che sia opportuno la squadra guarda insieme a me un video breve non ho mai video lunghi su gli errori che hanno fatto se no gli assistenti fanno sempre un video individuale a ogni giocatore su tutti gli errori che hanno fatto perciò i giocatori arrivano inizio settimana sapendo quali sono le cose che non hanno fatto bene durante la partita dopodiché giovedì venerdì sono i due giorni che dedico facendo dei vidi breve su le caratteristiche della squadra contro cui vado a a giocare gli attacchi i tipi di difesa le difficoltà che potremmo incontrare perciò loro a un certo punto magari si rendono conto che quello che abbiamo fatto martedì e mercoledì senza dargli un nome è una cosa che rincontrano dandogli un nome e un raffronto al giovedì al venerdì tutto questo poi viene messo dentro un allenamento pensando che non potendo allenare tutto in media cerco tre argomenti per l'attacco tre argomenti per la difesa gli scindo vedo quelli che si possono mettere insieme li ripeto poi decido quali sono quelli che posso ripetere e quelli che non devo ripetere fatto questo lavoro ho uno schema settimanale dove magari funziona così martedì difesa transizione difensiva taglia fuori contro blocchi orizzontali piccolo per lungo attacco palla dentro weak side action cioè che cosa facciamo sul lato debole pick and roll centrale sponde il fatto di guardare i giocatori lontano magari qui ho dei giochi che vado a segnare sui quali dobbiamo lavorare qua dei giochi vado a segnare su cui dobbiamo lavorare contropiede no palle perse e sigillo dei lunghi perché voglio che il primo lungo arrivi dentro l'area e sigilli già per esempio questo argomento e questo argomento possono essere messi insieme e da qui monto quelli che posso definire i miei esercizi per questa cosa e i miei esercizi per questa mi faccio un programma per il mercoledì per il giovedì e il venerdì fatto questo che non è una cosa che faccio solo io cioè ne parlo col mio staff preparo l'allenamento del martedì finito l'allenamento del martedì mercoledì mattina ripartiamo cosa abbiamo fatto bene ieri cosa abbiamo fatto male propongo allo staff il secondo giorno oggi lavorerei su queste cose sì no c'è qualcosa da riprendere di ieri andiamo avanti quello lo diamo per assodato ci serve e così si va avanti unito a questo punto c'è sempre il problema di quanto è condizionata la squadra cioè il rapporto di quanto faccio a metà campo quanto faccio a tutto campo quanto faccio a tutto campo per quanti campi per quanto tempo perciò gli allenamenti diventano una cosa per cui abbiamo non so dieci minuti attivazione x tempo un esercizio a metà campo contro zero x tempo un esercizio a tutto campo contro zero x tempo un esercizio di sovrannumero ok questa è l'attivazione questo fa il riscaldamento bene adesso entriamo nella parte agonistica la parte agonistica come la divido la divido per quello che mi interessa difensivo offensivo come la metto numeri due contro due tre contro tre quattro contro quattro cosa penso sia meglio fare un po' è legato anche ai numeri di allenamento quanti lunghi ho quanti piccoli ho fatto questo discorso si imposta la parte difensiva la parte offensiva pensando quanto tempo deve durare ogni esercizio quanto tempo dobbiamo lavorare metà campo a tutto campo la trasformazione metà più un campo metà più due campi e da lì diciamo che viene montato un allenamento quasi sempre questa cosa la penso da solo poi la faccio scrivere al mio assistente quest'anno no gli ultimi due anni ho avuto un assistente non so se lo avete anche voi probabilmente sì lui aveva un programma sul Mac dove praticamente lui con una penna scriveva sullo schermo lui scriveva l'allenamento io lo facevo riscrivere e poi dicevo a loro ditemi se vi convincio c'è qualcosa da cambiare e lì si partiva a parlare insieme sì però guarda questo è troppo questo è poco il preparatore diceva guarda che lì perché io partivo dicendo lo penso tutto da solo e poi diceva a loro toglietemi aggiungetevi quella che è la vostra idea pin 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 bene fatto a questo punto veniva fuori l'allenamento finale loro me lo riproponevano e io guardavo se mi piaceva me lo riscrivevo così come sto facendo con le freccettine pam 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 se mi piaceva ok questo lo diamo per buono e chiunque arrivasse in campo il team manager che ci gestiva il tabellone coi tempi il fisioterapista perché magari aveva dei giocatori che doveva tenere un po' sotto controllo aveva in mano il piano d'allenamento tutti sapevano che cosa noi avremmo fatto non c'era modo che uno sfuggisse da questa logica perché i giocatori dovunque si voltasse avevano la certezza che noi eravamo tutti sulla stessa linea sulla stessa pagina sapevamo tutti cosa stavamo facendo e questa cosa ve lo può dire Marcos che ha giocato ai più alti livelli non sembra ma ai giocatori dà delle certezze pazzesche il fatto che ognunque ti volti tu sai che c'è in mano un foglio e tu sai che stiamo parlando tutti da una parte la stessa lingua il giocatore non ha scappatoie sa che riceverà delle risposte magari anche diverse ma risposte precise perché c'è una partenza e una fine questo che uno mi dice ma cara grazie tu non hai cazzo da fare tutto il giorno fai l'allenatore ci mancherebbe altro non è il punto non è il punto perché questo tipo di cosa questa forma mentis per esempio è una cosa che io ho appreso da quel signore lì che adesso sta prendendo appunti che tutta la vita ha lavorato mi ha allenato tanti anni e non c'è mai stata una volta che non si è arrivato in palestria io giovane giocatore con in mano un foglio in cui sapevamo lui sapeva esattamente cosa si avrebbe fatto fare e lo capivi che c'era un pensiero dietro le cose che non era la persona che arriva dall'ufficio va bene vestito così aveva sempre la sua borsa si cambiava cioè lui aveva dedicato e ho conosciuto tantissime persone ho avuto tanti amici che dedicavano parte della pausa pranzo in ufficio a preparare l'allenamento perché non importa che voi siate professionisti e cose nel momento in cui entrate in una palestra siete allenatori e siamo tutti obradovici e i vostri giocatori sono tutti giocatori NBA cioè non c'è la giustificazione ma sì questi contano un cazzo va bene beh no oppure se a me è capitato non so io ho avuto stagioni dove facevo settore giovanile prima squadra magari finiva la stagione e ho fatto da capo allenatore 200 partite io non so se voi le avete fatte 200 facevo 5 campionati giovanili più la prima squadra fortunatamente anche squadre buone andavamo avanti 200 non avevo quelli più bravi e quelli meno bravi erano tutti giocatori che volevo cercare di portare magari facendo migliori a un livello più alto a una capacità più alta non c'era qualcuno che valesse meno e avevo squadre più scarse e squadre più forti non è che erano tutte incomiabili o meritevoli di abbracci e applausi però la precisione la puntualità la la professionalità è uguale è uguale che voi guadagnate 100 mila euro l'anno o 100 euro al mese per fare sto lavoro lui è malenato per anni guadagnando zero metteva benzina macchina zero guadagnava zero perché il punto è che lo faccio perché è una passione lo faccio perché mi sento di voler dare qualcosa agli altri perché mi piace perché mi dà adrenalina perché mi piace vedere qualcosa che cresce che migliora che matura e non può maturare se non c'è un piano c'era un famoso telefilm negli anni 80 l'A-Team il capo diceva sempre adoro i piani ben riusciti e i piani ben riusciti funzionano solo e soltanto se c'è una programmazione dietro se si è spannometrici viene fuori una minchiata spannometrica poi può anche andare bene puoi anche fare grandi stagioni perché si incastrano mille cose ma alla lunga questa cosa non paga mai soprattutto non fa crescere il tuo livello di allenatore perché non hai memoria di ciò che hai fatto continui ad andare a spanne a vivere sulla cosa del momento questo modo di lavorare secondo me è fattibile anche a livello giovanile partendo da lo studio o un minimo di analisi di quello che avete in mano ho in mano una squadra di che livello 19 17 15 14 13 ho in mano una squadra che è squadra da molto tempo cioè che ha fatto tutto il mini basket insieme le prime categorie giovanili insieme magari gente che ha a livello under 15 6 7 campionati fatti insieme è una squadra ex novo perché sono reclutati perché fino a due anni fa ne erano pochi poi all'improvviso sono arrivati ho una squadra di bimbi molto alto e una squadra di bimbi bassi ho una squadra di atleti motoriamente già avanzati o di bambini indietro come i gamberi questo è il primo punto e questa osservazione di questa osservazione ne devo tenere conto ne devo tenere conto perché sennò magari richiedo dal punto di vista motorio e tecnico delle cose a cui loro non possono arrivare e li mando solo in frustrazione ma assolutamente solo in frustrazione c'è stato un periodo che Tagnovic disse che bisognava fare tutti i giocatori Tagnovic è un metro e novanta tutti i giocatori devono essere più alti di lui era più o meno il periodo in cui io ero ragazzino e c'era un 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 disastro di giocatori di due metri messi a fare i playmaker totale abbiamo creato una progenie di frustrati della Madonna e abbiamo perso una marea di nani alti così fortissimi perché? perché venivamo quelli un po' alti li mettevamo tutti a palleggiare a tutto campo si palleggiavano sui piedi e cosa succedeva? che smettevano smettevano si rompevano i coglioni perché non c'era perché è meglio avere un pivot felice di un metro e novantacinque che una guardia triste di 2.02 cioè voi dovete anche interpretare guardare che cosa succede e dovete segnarvelo dovete aver chiaro questo giocatore cos'è che cos'ha cosa può diventare questo giocatore cos'è che cos'ha che cosa può diventare da lì dall'osservazione dei vostri giocatori dovete partire e dire ok adesso a questa squadra cosa posso insegnare e tenete conto che non c'è un modo solo per far bene palla canestro non è che uno dice questo è il modo giusto perché usiamo questo protocollo poi quel protocollo poi quel protocollo e arriviamo alla fine che abbiamo ottenuto sicuramente la via giusta per formare i giocatori no ci sono dei principi secondo me da percorrere e anche questi non sono raggiungibili tutto nello stesso momento ma il primo punto non non ci sono giocatori di palla canestro senza una base agonistica poi ci sono giocatori che avranno più cattiveria meno cattiveria agonistica ma l'idea di la palla rotola per terra la vogliamo prendere la vogliamo prendere poi dovete stare molto attenti e valutare quanto un giocatore tollera o non tollera il contatto fisico e ci sono giocatori che non gli sono duri e si buttano naturalmente e altri che hanno paura chiudono gli occhi li vedete perché si buttano dentro quando arriva un contatto sembrano matrix si scompongono tutti pur di non prenderlo e fare un tiro allora lì bisogna fermarsi e dire ok primo punto in un contesto agonistico perché l'agonismo è un mio punto importante e l'agonismo vuol dire saper giocare nei contatti chi sono i giocatori che naturalmente ci sanno giocare quelli che non ci sanno giocare bene destra sinistra che tipo di giocatori sono quelli della mia squadra che sanno giocare nei contatti che tipo di giocatori sono quelli che non sanno giocare nei contatti e poi crearmi un percorso e dire posso arrivare a far giocare quelli che non sanno giocare nei contatti dentro i contatti e ci provo quelli che sanno già giocare nei contatti a cosa posso aggiungere loro non so assorbire con una parte del corpo e tirare con la mano esterna assorbire con una parte del corpo e palleggiare con la mano esterna già lì state montando una marea di lavoro tecnico secondo punto tutti i giocatori devono avere abilità di ball handling indipendentemente dal ruolo e dalla posizione tutti i giocatori devono avere abilità di ball handling postura da giocatori di pallacanestro e la capacità di palleggiare far uscire la palla boom boom essere diciamo capaci di fare gesti tecnici semplici con entrambe le mani terzo tempo a destra terzo tempo a sinistra resto di potenza a destra resto di potenza a sinistra palleggiare arretramento boom boom passare la palla boom 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 passare la palla altro lavoro che porta a un impiego di ore e ore e ore e chi ha una scaletta perché queste cose vengono fatte prima in fase didattica poi in fase didattica ma con una base di velocità di esecuzione poi in fase agonistica contro un avversario probabilmente contro un avversario in ritardo e poi contro un avversario pari a me a livello di posizionamento bene stiamo già montando tantissima roba altro punto i giocatori di pallacanestro cosa devono saper fare una pallacanestro moderna principalmente tirare tirare è importantissimo che i giocatori sappiano tirare allora bisogna partire da fase didattica tutta la roba del tiro attenzione non siate schiavi della precisione perché il nostro non è uno sport di angoli cioè quando trovate un istruttore che comincia a dire no ma il gomito dritto la mano sotto la palla queste robe qua si distruggono i giocatori perché ognuno di noi ha una conformazione fisica completamente diversa alcuni hanno questo gesto molto naturale io lo avevo naturale da piccolino vero o no alcuni non ce l'avranno mai magari faranno tantissimo canestro ma proprio tantissimo e noi magari glielo impediremo perché vorremmo farli tirare come dice il libro anziché come dice la cosa vi faccio un esempio il mio carissimo amico che è nato qui non è più tra noi povero bravissimo un grandissimo osservatore di talento lavorava per la commessa femminile era il loro reclutatore lui non reclutò chi camacchi la giocatrice più forte che l'italia mi ha avuto perché tirava da qua e lui era infastidito da questa cosa abbastanza talebano e diceva uno può tirare da qua poi domani gli mettono la mano sopra c'era 20 in WNBA non la reclutò e parliamo di un grande osservatore di talento non un allenatore qualsiasi però questa roba qui la mandava i pazzi non la reclutò non valutava l'efficacia non valutava il fatto di dire beh ma poi se lavoriamo dopo magari glielo alziamo un po' poi iniziamo a parlare di una bambina che è alta che ha talento no questa roba qui lo mandava i pazzi perché secondo lui si tirava così perciò non c'era verso di tirargli la via dalla testa questa cosa questo porta al fatto di dire che già quando andiamo a insegnare gli esercizi di tiro c'è una parte definiamola didattica in cui voi dovete richiedere la precisione del gesto e lì va bene provare a correggere poi c'è una parte in cui iniziamo a chiedere che tutto il lavoro delle spinte venga messo in una fase di movimento e già lì vedrete che ognuno avrà un problema diverso chi non ha i piedi chi non ha linea chi gira il busto chi mette le mani male e lì si apre un mondo su che tipo di correzione vogliamo ottenere e lì si apre un mondo anche su che cosa è importante nel tiro chi è che mi senti dire se uno dovesse dire cos'è la cosa più importante quando va a tirare che secondo me che fa la differenza e che valuta il fatto potrà far canestro o meno datemi un'idea perché poi non è mica detto che il mio la mia sia l'idea giusta spiega meglio ce li abbiamo tutti i piedi però bisogna i piedi posizionati verso canestro altra idea se il polso viene spezzato meno altra idea la spinta delle gambe gli occhi che guardano il canestro se il palmo tocca la palla Marcos la parabola se il corpo è propenso al tiro la rotazione della palla abbiamo fatto la palla canestro ma è perché ognuno di noi viene la diversa e non è detto che la mia sia quella giusta la mia osservazione in anni e anni dice che per me la cosa che più conta è il rilascio quanto tu sei più fluido in questa cosa tanto più tutto il resto viene di conseguenza ci sono giocatori che fanno canestri incredibili e lo capite subito perché voi da dietro vedete come rilasciano la palla se la palla entrerà anche tutti storti è per me questa cosa perciò io se dovessi ripartire la piccolo la cosa su cui metterei un'attenzione incredibile è come le mani come la palla lascia le mani questa parte finale secondo me è importantissima per esempio mi sono fatto persuaso che il dito indice della mano che non tira deve finire all'altezza del polso nel momento in cui si spezza cioè questa cosa qui perché se sono più basso vuol dire che la mano ha spinto troppo da sola se sono più alto vuol dire che ho accompagnato troppo così è la cosa giusta per me così come questa cosa è importante per me se una difficoltà perché cosa succede nel tiro che la palla da alcuni esce perché hai le mani piccole esce dal mignolo per riuscire a indirizzarla siccome invece a noi interessa che esca da queste tre dita secondo me la rotazione un pochino del polso porta che la palla sicuramente verrà spinta da queste tre dita spinta da queste tre dita e l'indice direzionerà la palla a canestro Dan Peterson per esempio sosteneva che l'indice garantisse la spinta corretta perché lui diceva vedete che qua c'è spazio per un sesto dito perciò queste due dita sono quelle in mezzo che garantiscono veramente la spinta della palla e allora anche la rotazione del polso però garantisce un pochino che aprendo la mano la palla vada io mi sono fatto il passo che secondo me questo è un punto importante l'altro punto importante che va di conseguenza a questo è quanto lavoro per esempio con la mano sinistra guardavo la partita di prima per esempio Cucco si chiama quel ragazzino che c'era segnava tutti i tirilibri però la mano sinistra gli cadeva sempre e mi ponevo il fatto di dire quel gesto sarà dopo ho fatto anche una bomba da lontanissimo sarà efficace un domani in una cosa veloce un tiro che è abituato a far così in un movimento rapido di prendere e tirare quanto equilibrio avrà se gli cade sempre la mano allora pensiamo al fatto di dire rimesso nel gioco quanto è importante la presa e il rilascio del pallone e il fatto che le mani diano una stabilità automaticamente se le mani danno una stabilità alla palla di conseguenza le braccia salinano perché non è che il gomito può andare da un'altra parte a quel punto se le braccia salinano le spalle salinano poi dopo viene il fatto di mettere tutto questo a canestro tutto questo a canestro non si può sapere quanto riuscirai a essere sempre allineato perché non è che come il tiro libero sei fermo così perciò dopo viene il lavoro boom girare i piedi quanto riesci a girare a canestro quanto le anche ti seguono questo è un altro punto ma vedrete che già stiamo andando a parlare di una cosa complicatissima e che riguarda una biomeccanica che è differente in ognuno di noi ed è differente a maggior ragione nei bimbi se sono piccoli se sono alti se la palla pesa un quintale per loro ci sono ragazzini per cui la palla pesa tantissimo e questo è un altro punto su cui mettere attenzione allora nel palleggio abbiamo valutato tutte le cose di prima adesso sono tutte queste cose sul tiro le spezzo mi formo un mio eserciziario dopodiché l'altro punto il passaggio quante volte si sente dire i giocatori non sanno più passare la palla i giovani non sanno arrivano in prima squadra mamma mia come passano male la palla perché secondo voi succede questa cosa o se siete d'accordo magari dite adesso i ragazzi la passano benissimo provate a dire secondo te è quello secondo te è quello secondo voi questo non è male è un punto secondo me che porta ancora un discorso ben più ampio però anche quello può portare un discorso più ampio qualcun altro voi avete tutti i ragazzini che passano benissimo la palla su che cosa lavorate per provare a fare sì che diventino passatori migliori tenete conto che il porsi queste domande porta al fatto di trovare le risposte trovare le risposte porta a delle strade per cui poi si formano le cose che volete fare cioè se voi vi date delle risposte a queste domande iniziate a mettere insieme un tot un eserciziario un tot di esercizi che dopodiché sono il vostro bagaglio per insegnare qualcosa allora anche lì vi dico le cose per le quali mi sono fatto persuaso io ed è questo lui ha ragione a dire perché forse si gioca troppo uno contro uno dal palleggio ma il punto è che la realtà è che giocare uno contro uno dal palleggio porta al fatto che se e io sono abbastanza per le categorie piccole un fautore io direi ognuno che prende il rimbalzo inizia a partire in palleggio vai vai però mentre palleggi se abbiamo lavorato tutti nella testa alta devi sempre guardare cosa ti entra negli occhi e mentre qualcosa ti entra negli occhi se non libero la palla gli deve arrivare e la palla gli arriva se tu sei abituato a palleggiare senza paura di perdere la palla e a far andare la palla pum 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 e a farla andare perciò se noi diamo è raro che un grandissimo driblomane non abbia in sé anche la possibilità di passare la palla tecnicamente perché in realtà un grande driblomane ha un'indipendenza pum 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 per cui la palla arriva che cosa porta al fatto che ci si passi la palla che poi dopo si arriva a quel discorso lì le scelte di gioco e le scelte di gioco sono anche legate secondo me a una cosa importante la scelta delle parole per ottenere uno scopo per esempio oramai è desueto rispetto a poi quello che diventa la propria deuticità di una partita senior il fatto di ribaltare molte volte la palla perché è raro che a palla canestro modernamente si arrivi a fare un ribaltamento due ribaltamenti sì magari in qualche gioco lungo così però sono altre le posizioni per cui si occupa il campo ma sicuramente sicuramente a livello giovanile insegnare a ribaltare la palla e tra virgolette essere anche un pochino noiosi porta a dare un peso alle cose ma il punto vero è che insegnare a ribaltare la palla muovere la palla deve essere fatto insegnando a come vado incontro la palla cioè la palla è lì c'era lui va rincontro così poi la prendo metto i piedi a canestro poi guardo se lui posso passargli la palla poi gliela passo è finita quella palla a canestro lì non c'è più ma non c'è più non questa palla tutto questo tempo esecutivo se volete fare giocatori per l'alto livello non esistono più esiste il fatto di mentre vado io inizio a pensare a cosa c'è di là perciò magari in questo caso gioco iniziando a guardare sopra questa spalla perciò nel momento in cui prendo la palla io sono già con i piedi che guardano la canestro perciò è pum e ho già la testa di là quando la palla è qui io so già se voglio passarla lì passarla là tirare attaccare ed è una cosa che porta all'inizio nell'insegnamento a una quantità di palle perse di minchiate inenarrabili ma inenarrabili cioè gente che perde la palla che palleggia che cade per terra che la spara l'occupazione dello spazio quanto la devo prendere lontano rispetto ai tre punti rispetto al difensore e a quel punto quando voglio essere veloce come metto le mani come posiziono il mio corpo bene questo è un altro punto che porta al fatto di dire sto imparando a prenderla e già sto pensando alla fase successiva ed è hop un backdoor in palleggio in palleggio arrivano boom butto fuori la palla questa cosa il passaggio è secondo me una cosa dettata dal gioco ed è l'unico secondo me vero processo inverso che c'è nella palla canestro che è prima ti faccio giocare tu devi riconoscere e magari succederà che a un certo punto diventi bravo e quando la palla arrivi inizierai a battere e prima che poi la palla tu non sai come farla arrivare allora riscompongo e torno indietro ma siccome tu adesso sai perché facciamo ti faccio lavorare boom 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 e quando vai a giocare ritrovi dentro quella cosa perciò la qualità del passaggio la tecnica del passaggio viene data da proprietà di palleggio unità riconosco il momento in cui sto giocando questo porta che già abbiamo parlato di tanti aspetti del gioco già solo i tre fondamentali hanno portato ad aprirsi un mondo su come già potete iniziare a pensare di voler giocare dopodiché dovete decidere quanto vi piace che la vostra squadra corra e per quale motivo un giocatore deve correre deve correre perché vogliamo rubare canestre in modo facile deve correre perché l'obiettivo è sviluppare giocatori che pensino veloci e abbiano azione e reazione senza pause deve correre perché sono un amante del pensiero libero perciò se nei primi sette secondi ogni volta attacchiamo prendiamo un'iniziativa non me ne frega un cazzo non ho paura di sbagliare voglio fare giocatori che non abbiano paura di sbagliare ogni motivazione è buona non deve correre perché e questa è un'altra situazione che deve interessare voi automaticamente scegliete quanto lavorare su le situazioni a tutto campo il consiglio è che chi allena i giovani guardi tantissimo la pallacanestro senior non per rubare un gioco che non serve letteralmente a un cazzo ma per capire visto che il mio obiettivo ultimo è fare giocatori che indomani giochino senior quali sono le cose che servono per formare un giocatore senior si spera del più alto livello possibile poi è logico che c'è una componente fisica che fa tutta la differenza del mondo perché se è alto così non è atleta possiamo farlo più bravo del mondo ma resta alti in sci e non atleta per cui si fa fatica però l'idea deve essere che devo cercare di fare il miglior giocatore possibile per il mio livello se alleno Legnano San Giorgio che fanno la serie B io devo pensare che almeno devo cercare di portarli lì se non arrivano lì e stanno a un livello sotto va bene lo stesso ma almeno e devo andare a guardare cosa serve per arrivare a quel livello lì cioè io devo pensare se un domani il mio giocatore con la palla in mano può avere le caratteristiche di Costa o Marino può avere le caratteristiche di testa o Raivio cioè io mi devo dare dei modelli tenete conto che lo sviluppo dello sport ha sempre un boom quando c'è un modello a Varese per esempio sono venuti fuori tanti piccoli bravi nel momento in cui Pozzecco ha iniziato a giocare allora sono venuti fuori Passera Gergati l'altro dell'84 non mi ricordo come si chiama c'è è così quando c'è un boom in uno sport adesso vedrete che verranno fuori tanti tennisti bravi per forza come il boom della pallavolo è venuto dopo che Velasco ha iniziato a vincere sono diventati tutti pallavolisti bravi che è uno sport anche facile da prendere per cui non è che ci voglia uno scienziato nucleare però è successo questo perciò voi dovete dare dei modelli dire io voglio io penso che tu sei testa tu sei Raivio tu sei Gergati tu sei Costa prendiamo i modelli di quelli che avete qua voglio dire senza andare a cercare qualcosa di lontano da lì poi inizia a montarsi tutta la parte difensiva la parte difensiva ha secondo me un fondamentale molto importante che è imprescindibile bisogna insegnare ragazzi a fare gli scivolamenti se lo stanno scordando tutti i giocatori non sanno più fare gli scivolamenti fanno tutte delle gran corse si danno tutti dei gran cazzotti ma uno contro uno una ferma uno parte scivola la gente non fa più gli scivolamenti cioè sembra che sia brutto mettersi in palestra e fare questo e invece è importantissimo e insegnare a farlo cioè quando recuperare correndo mettiti davanti e scivola cioè intervallare i movimenti a parte il fatto che dal punto di vista muscolare è molto importante ma gli scivolamenti sono una base secondo punto la dissociazione del lavoro mani piedi cioè in difesa le gambe fanno una cosa le mani fanno un'altra cosa e bisogna che lo facciano e magari la mano destra fa una cosa diversa rispetto alla sinistra e questo parliamo semplicemente del lavoro sulla palla poi partiamo nel lavoro lontano dalla palla quanto mi piace che uno sia aggressivo su uno scivolamento su un anticipo che sposti le spalle come deve mettere le mani come deve essere la mano che non anticipa come lavoro su un backdoor mi piace girare la testa mi piace spezzare il taglio con la mano interna vale tutto ma decidete voi cosa vi piace però allenatelo automaticamente state allenando anche l'attacco automaticamente montate l'allenamento perché lavoro sul gioco senza palla per l'attacco e la difesa per la difesa idem l'uno contro uno poi diventa due contro due mettendo attenzione su questo particolare sull'altro particolare attacco e difesa che sia poi iniziamo a metterci il terzo uomo il lato debole come mi piace che sia su un lato debole cosa mi piace che la mia squadra faccia rispetto alle penetrazioni quanto mi piace che la difesa stringa il campo allarghi il campo sia reattiva rispetto alla palla che mi ha messa per terra quanto sono disposto a tollerare in percentuale sugli errori mi piace anticipare come un matto non posso incazzarmi se prendo backdoor mi piace pressare come un forsennato non posso arrabbiarmi se prendo terzi tempi o spendo falli queste cose queste cose le devo sapere devo essere coerente e devo andare avanti ad allenare per queste cose qua e sono tutte cose che nel vostro foglio dovete segnarvi pro e contro esercizi per arrivare alla fine si arriva a cento punti diciamo bene a quel punto abbiamo questi bei cento punti ogni giorno decidiamo quali ingredienti mettiamo e cosa facciamo è lo stesso principio che in cucina come per cucinare è lo stesso principio se però sbaglio la dosaggio degli ingredienti e l'insegnamento viene uno schifo è lo stesso l'allenamento lo stesso non l'allenamento che magari funzionerà ma quello che sto insegnando perché non sarà coerente non sarà logico non sarà succedaneo pum 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 successivo e questo è un altro punto importante ma voi scoprite se è solo se scrivete vi mettete lì lo guardate e dite questo più questo più questo per arrivare a questo questo più questo più questo per arrivare a questo poi altro punto sempre nell'osservazione non avete per forza tutti i ragazzi bravi avrete quelli molto bravi subito quelli molto futuribili quelli che vi danno una mano e quelli che schifo fanno ma pagano la quota e bisogna tenerli tutti e voi non siete bravi se all'inizio della fine dell'anno ne avete tre in meno voi siete bravi se ne avete tre in più allora dovete decidere qual è il tempo e la qualità dell'intervento e qual è il tempo e la qualità nel vostro allenamento e la scelta degli esercizi che fate per come ragiono io gli esercizi vanno fatti in funzione dei più bravi e dei più futuribili tanto per gli altri va bene tutto correggo tutti ma i tempi sono diversi quello scarso io do una correzione volante non lo lascio dimenticato perché umanamente se no se ne accorge ed è terribile però è e perdo del tempo con quello bravo quando vado a una partita devo trovare il tempo per metterli in campo più o meno tutti ogni tanto succederà che 12 difficili si va a far giocare ma devo trovare un momento perché io ho bisogno di tutti perché un altro punto importante per lo sviluppo di questo gioco e lo sviluppo di questo gioco porterà al fatto se lo farete un domani in mestiere che troverete sempre qualcuno che vi paghi lo stipendio è che voi non solo fate giocatori ma voi fate appassionati arbitri allenatori tifosi e magari quello brutto e schifido che voi dite mamma mia però si è appassionato ed è diventato un bravo diventato uno che gli piace la palla canestro e un domani può essere uno che nel suo lavoro ha fatto un percorso e mette dei soldi nella palla canestro uno dice vabbè ma stiamo parlando dell'ipotetico sì ma non perdeteli non perdeteli il nome di ho vinto una partita in più perché se uno vi chiede ma chi ha vinto l'anno scorso il titolo italiano grazie il titolo italiano under 19 chi lo sai tu la stella azzurra voi lo sapevate quanti di voi lo sapevano sulle mani sinceri beh siete già in tanti ma non non è una roba che rimane guardate che non è una roba che rimane la vittoria logico che corrobora noi stessi ci sembra far star bene tutti gli anatori quando vincono sono più felici rispetto a quando perdono qualsiasi ma in realtà è se avete lasciato un segno nelle persone vincere o perdere è aleatorio la costruzione di qualcosa che sia un rapporto che sia una cosa più importante vincere o perdere una volta è detto anche il fatto io ho un roster molto forte lui è un roster molto scarso e grazie forse se cambia le panchine vincerà lui e perderò io magari io sono un po' più bravo di lui anziché perdere di 20 la perdo di 12 ma non è che se io vincevo una parola di 20 la rivinco io di 20 non illudetevi ogni tanto noi abbiamo anche questa presunzione di pensare che abbiamo le bacchette magiche non è mica vero perciò ponetevi su che cosa è importante lasciare ai vostri giocatori su che cosa è importante costruire insieme ai vostri giocatori e tenete conto che riporre una quantità di aspettative altissime anche sui giocatori più bravi può portare una frustrazione pazzesca così come sui giocatori meno bravi sentirsi importanti coinvolti bene ma adesso vi dico un assurdo lasciarli in campo 10 minuti di fila con loro che fanno solo puttanate sono i primi a non essere contenti perché sono i primi a sapere alla fine qual è il loro valore cosa possono fare ma se invece stanno in campo una razione di tempo che gli fa sentire partecipi e magari in quella razione di tempo col quintetto giusto fanno un canestro toccano un pallone rubano un pallone e noi li rendiamo felici abbiamo fatto un ragazzino felice anche questo fa parte del riconosco che cosa in mano e decido come allenarlo è un processo secondo me lungo difficile un po' è legato anche al talento al talento all'osservazione a quanto io sono disposto a osservare quanto riconosco le situazioni quanto riconosco la ripetitività delle situazioni tenete conto che il nostro non è uno sport infinito dopo un po' che allenate vi renderete conto se allenate non so sempre le categorie giovanili vi renderete conto che dopo dieci anni avrete in mano una squadra direi questo giocatore ha gli stessi difetti che aveva lui sette anni fa quello là cinque anni fa perché non è che diventiamo dei marziani siamo sempre umani con una casistica anche i serial killer alla fine sono tutti messi in casistiche specifiche non è che c'è il serial killer che nessuno ha mai visto prima e che parte dallo scoiamento dell'alluce per ammazzare uno più o meno le dinamiche sono le stesse per cui è un processo di conoscenza ed è di osservazione ed è un sistema metodico preparare un allenamento così come preparare una stagione così come decidere il lavoro che devo fare in palestra prevede metodo prevede investire tempo in quello che state facendo prevede darsi un'organizzazione e dopo avere anche magari a fine allenamento dire ok questo è venuto bene questo è stato uno schifo questo l'ho fatto pensavo di fare questo esercizio no questo non l'ho fatto non sono neanche riuscito ad arrivare fin qua perciò nell'allenamento ho programmato un lavoro troppo lungo per cui questa roba qui so che questa squadra 5 esercizi li può fare il sesto non verrà mai perché è troppo lungo il lavoro che devo fare allora cosa posso accorciare questa roba qui non è venuta allora questa è da ripetere sicuramente questo e questo sono venuti bene li devo ripetere posso accorparli in un unico esercizio oppure devono rimanere divisi e da lì si continua l'evoluzione posso accorpare una situazione di attacco e difesa per fare in modo di ridurre i tempi e tenere alta la parte agonistica ho bisogno di escamotage per per ottenere un'intensità e un agonismo elevato dai miei giocatori ho bisogno di mettere una punizione ho bisogno di mettere dei punti devo mettere non so delle punizioni a palla persa a rimbalzo in attacco devo mettere dei punti negativi cosa devo fare anche questo fa parte del leggo riconosco me lo segno e cerco di capire come arrivare fermo restando che a livello giovanile è vero che bisogna ottenere una parte agonistica è vero che bisogna ottenere un'intensità ma tenete conto che se ne ricercate troppa poi perdete i giocatori non pronti cioè se voi chiedete una grande intensità ai bimbi alti i bimbi con le leve lunghe li perdete tutti perché sembrano inadatti perché con grande intensità e grande ritmo vincono i nani allora dopo si privilegia i nani che sono uomini pronti ad attaccare in realtà dobbiamo capire qual è l'equilibrio nella richiesta di una cosa e fino a che punto sono pronto a tollerare questo e perché poi c'è un altro punto che è sempre importante i bimbi più alti i bimbi con le leve lunghe molte volte possono essere che si chiudono un po' in loro stessi possono essere vergognosi rispetto alla loro corporalità se poi noi limitiamo le difficoltà perché vogliamo giocare una palcanestra dove loro ogni giro ne perdono due e dopo un po' non giocano e stiamo perdendo come perdiamo quello scarso come perdiamo quello timido come perdiamo quello che ha paura delle botte come facciamo a non perderlo è bravo è futuribile bisogna che parte l'allenamento sia costruito intorno a lui per fare in modo che lui cresca e se dobbiamo fare un esercizio per cui lui deve diventare forte in ricezioni dobbiamo metterci lì a fare un lavoro sulle ricezioni per cui fila qua fila là boom vieni forte contro la palla la prendi pum la ripassi pum te la ripasso e parti per abituarci a fare una ricezione in movimento e una ricezione statica ma trasformare la parte statica poi in una cosa esplosiva e bisognerà farlo e lo faranno anche gli altri adesso sto dicendo una cosa che vale un'altra vogliamo che un bambino impari a tirare dobbiamo dedicare un pochino più di tempo al tiro lo faranno anche gli altri se avete la possibilità di riprendere le partite riprendetele ma per guardare i vostri errori per guardare la vostra squadra sbattetevi nelle palle degli avversari tanto se fate bene le cose voi come squadra l'80% del lavoro è già fatto tenete conto che vale anche a livello segno ma riguardate riguardate l'atteggiamento corporeo riguardate quando fate una correzione qual è l'atteggiamento fisico che il ragazzino ha nel ricevere con la correzione è propositivo è chiuso è infastidito il tono del lavoro voi vi ricorderete in quel momento lì se avete strippato se siete stati sereni che cosa gli avete detto perché voglio dire avete segnato la partita al massimo il giorno prima e osservatelo osservatelo con grande attenzione sono stato efficace dal punto di vista comunicativo gli è giunta la cosa oppure si è chiuso si è chiuso completamente in se stesso e partire se cosa dicessi basta gli ha dato fastidio l'inizio non mi ha più ascoltato e anche questo è un punto da mettere lì perché ci sono dei momenti dentro l'allenamento in cui dovete incazzarvi e andare come bestie e c'è un momento in cui è meglio non parlare anche con i ragazzini per esempio secondo me io se hai in asse giovanili giocherei pochissimo 5 contro 5 ma nel momento in cui se ho la possibilità di allenare un gruppo magari un gruppo anche bravo formato quattro volte alla settimana e decido che almeno due di quei quattro allenamenti metto una parte agonistica di 4 contro 4 5 contro 5 secondo me è il momento in cui non dovete parlare siccome la parte agonistica di gioca è una parte di verifica voi dovete osservare cosa fanno loro perché in quel momento loro metteranno cosciente o incosciente in pratica quello che voi gli avete chiesto perché i bambini provano a fare quello che gli viene detto non hanno un chilometraggio tale per cui hanno un vissuto loro per cui poi giocano con la loro interpretazione e voi osservate e guardate siamo stati intensi o non siamo stati intensi Simone ha fatto le cose che gli ho chiesto i 3-4 giocatori per me importanti abbiamo lavorato molto sulla mano sinistra è stato recepito oppure cancelliamo l'idea non capiscono se voi pensate che i giocatori non capiscono è meglio cambiare mestiere vuol dire che non stiamo facendo qualcosa che gli aiuti a usare la mano sinistra quello che in quel momento ci sembrava l'esercizio migliore del mondo per l'utilizzo della mano sinistra le partenze il ball handling il ball handling il movimento i cambi di mano le mille cose che si possono fare probabilmente per quella squadra lì non va bene o in quel momento per quei giocatori non va bene forse devo mettere ancora qualcosa di diverso per aiutarli la mano sinistra forse se gioco tre situazioni di quattro contro quattro a tutto campo e ho pensato che queste situazioni durino sette minuti per sette minuti non parlo poi alla fine prendo e dico adesso ripetiamo molto bene però stiamo più attenti a usare la mano debole cerchiamo di usare tutti molto meglio la mano debole poi vedo qual è l'effetto che fa e da lì vado avanti poi mi pongo il fatto di dire sto seguendo la strada giusta magari la strada giusta a volte non è fare gli esercizi a secco magari delle volte è giocare i sovrannumeri dando degli input tecnici adesso giochiamo i sovrannumeri però obbligatorio quando sono sull'altro sinistro del campo palleggio con la mano sinistra faccio tutti i palleggi con la mano sinistra e faccio i tiri con la mano sinistra è un assurdo perché non è che la palla canestro preveda che a sinistra palleggi, tiri passi solo di sinistra però iniziamo a dare un obbligo così vediamo che cosa succede e vediamo se quella è una strada e me lo segno e lo archivio e rimane un punto su cui lavoro e la volta dopo quando preparo l'allenamento so se da quella cosa posso ripartire o la devo accantonare questa è la responsabilità più grande che avete come allenatore cioè il percorso che voi scegliete per l'insegnamento è in assoluto la parte più importante e il percorso che voi scegliete è legato a il vostro sapere unito alla vostra ordine mentale unito alla vostra proposta unito alla capacità d'assorbimento dei ragazzi e poi c'è il percorso inverso cosa hanno assorbito come gliel'ho proposto come l'ho organizzato cosa devo andare a prendere dalla mia parte di sapere per cambiare qualcosa e poi ricomincio adesso propongo questo con che ordine mentale in che modo come hanno assorbito e boom poi torno indietro e poi riva davanti ed è un continuo è un continuo ed è un continuo questa cosa qua ma non può succedere se non avete un ordine se non scrivete se non ve lo appuntate se non andate a prendere di punto in punto quella cosa perché rimanete globali se avete mai giocato a livello senior se avete allenatori che non preparano l'allenamento scritto ma che hanno nella loro testa tutto chiaro quasi sempre sono gli allenatori che fanno solo 4 contro 4 5 contro 5 e danno dei riferimenti in una parte boom 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 di gioco perché in quel momento vedete una cosa che non funziona ok adesso facciamo così ok adesso facciamo così ed è un modo di allenare per carità non è che c'è un modo solo di allenare è un modo di allenare a mio avviso è un modo meno organizzato perché non sono pragmatico non sono metodico nell'andare a toccare i punti che penso siano i punti di miglioramento e i punti di miglioramento sono diversi per ogni categoria per ogni livello per ogni tipo di squadra questo secondo me fa grande differenza assolutamente fa grande differenza e ripeto da un a voi un ordine un ordine mentale un ordine di lavoro cioè è come venire in palestra avendo la tuta le scarpe il materiale che gli dà la società è lo stesso principio è avere ordine cioè io non vengo qui col casco il minatore e le timberland a fare allenamento perché perché non si può fare e l'allenamento deve avere una sequenzialità un un fil rouge una verticalità e la verticalità di un allenamento poi la verticalità della settimana la verticalità della settimana la verticalità di un mese di lavoro la verticalità di un mese di lavoro diventica la verticalità di un macro ciclo i micro cicli i macro cicli la somma dei macro cicli fa la vostra stagione detto questo si possono fare enormi puttanate anche facendo così ma se ne possono fare di enormi perché poi non è che questo è un metodo infallibile ma questo magari vi aiuta a dire oh in corso d'opera cazzo queste cose qua che sto facendo da tre settimane sai che fate così non portano a niente provo a accantonare un attimo questo modo di fare vediamo se funziona in un altro modo a volte poi con i ragazzini succede che sembra che non funzioni poi all'improvviso boom le fanno perché i ragazzini hanno dei tempi di apprendimento particolari rispetto agli adulti però mi rendo conto se una cosa è proprio non assimilata o assimilata ma c'è fatica a rimetterla in campo cioè se noi lavoriamo come prima per fare i ribaltamenti perciò con l'idea di dire prendo la palla e leggo in anticipo mentre la prendo questo prende e fa così e quello ogni volta parte in backdoor secondo me l'abbiamo assimilata perché l'abbiamo fatto veloce ma non la stiamo mettendo in pratica bene perché manca in particolare se ogni volta la prendo lui fa così quello è allora non l'ho assimilata se sto palleggiando con la mano sinistra c'è un compagno lì e quando arrivo qui faccio e poi boom gliela passo con la mano destra non è che non la sto assimilando mi manca il coraggio la forza la destichezza per arrivare e fare questo se invece arrivo è allora non l'ho assimilata anche in questo voi dovete sapere osservare qual è il peso dell'errore una volta vi di un allenamento di Peterson a un camp in cui lavoro tutte le estate e lui disse mi ricordo un allenamento pazzesco e lui diceva alt bravo hai sbagliato questo errore costruisce alt hai sbagliato stai distruggendo il nostro lavoro gli americani poi sono bravissimi perché con una parola trovano e lui ti rimanevi così e lui distingueva gli errori bravo stai costruendo bravo non bravo stai distruggendo e gli errori sembravano non molto distanti l'un all'altro ma c'erano dei particolari c'erano dei particolari che per lui faceva una differenza tra costruisco e distruggo secondo me fu per me una piccola grande lezione ero più giovane di adesso perciò ero diciamo anche meno attento a certe cose e quella cosa mi lasciò così poi se vi capita se leggete un libro che lui ha scritto basket essenziale avrà 40 anni almeno vedrete che ci sono cose modernissime sull'organizzazione del lavoro assolutamente moderne e ci sono praticamente un anno di fogli scritti da lui sugli allenamenti erano scritti e questa è una cosa perché è importantissimo è importantissimo nessuno è mai spannometrico io non so se vi capita di vedere per esempio molte volte anche i grandi allenatori Obradovic quando esce dalla palestra chiude sempre un blocco e se lo porta via Obradovic che ha degli staff incredibili però lui ha tutto scritto su un foglio e chi lavora con lui vedrete che sicuramente ha qualcosa in mano perché sa cosa funziona perché se vi tenete tutto qua dentro è un casino voi dovete pensare che la vostra stagione sia come un romanzo io non ho mai visto uno che ci tiene in testa tutto un romanzo poi all'improvviso butta fuori 400 pagine e fa un capolavoro o uno che compone un'opera e ce l'ha tutto in testa e poi all'improvviso butta fuori e viene fuori la Tosca e scrivono correggono riscrivono ricorreggono stracciano e danno un calcio io ci metto delle ore sono sincero io ci metto almeno un'ora ogni volta a preparare un allenamento poi perché sono pignolo per cui inizio scrivo le mie freccettine faccio le freccettine così freccettine poi se guardo un esercizio che non mi piace non è che dici ma tanto che cazzo me ne frega cancello no butto via il foglio e lo riscrivo da capo cioè alla fine deve essere una roba che è dritta senza una sbavatura allora in quel momento se mi piace nell'insieme ok questo potrebbe essere quello giusto e faccio il processo come ho detto prima lo metto in discussione con quelli che allenano con me poi uno può dire vabbè ma sei malato sì vi assicuro che non butto via carta perché io taglio sempre i fogli retro io faccio i blocchi con il riciclo dei fogli degli altri con i mollettoni perciò in realtà recupero carta però è proprio secondo me un volerci dedicare a questa cosa qui con un po' attenzione secondo me se provate farà molto la differenza per voi è un po' come quando io facevo l'università il modo in cui prendi appunti ti risottolinei le cose le ricostruisci ti aiuta a tenere un ordine mentale importante poi nella riproposta e questo è importante grazie ragazzi grazie grazie a tutti grazie a tutti